Andiamo a Giamonds, metti i tuoi. Perché, capito, ma che cosa significa riuscire sì a telefono? No, no, non ho capito. Non cazzo con il marito, ad uscire in gruppo, me l'ha spiegato. Io comunque, caccola, siamo usciti io, Samy con mio e lei, che è la cugina. Il fatto sta, comunque, Samy con mio cercava di andarsene per farci chiacchierare, comunque siamo stati a parlare tutta la sera e tutto quanto, ma capito. Bella che abbia pure vicino a casa mia, questa ragazza. Quindi l'ho detto spesso, diciamo. Eh, boh, dille, se quello che mi ha bloccato, tu fai... Eh, boh, ma tanto dobbiamo parlare di vivo, è facile che non c'erano le scontate. Infatti già ce l'ho detto, questo, già ce l'avevo detto. Questo qua già ce l'avevo detto prima che l'ha bloccato. Perché, già all'inizio era successa sta cosa che... Comunque ce l'ho mandato un messaggio, visto che non mi rispondevo, detto, vabbè, questa è semplicemente fianzata e non mi può rispondere. Vabbè, io ti trovo, beh, me l'ha bloccato per fare, non posso parlare vivo, tutto quanto. Il giorno dopo che l'ho bloccata mi contatta sta mie con me e mi dice Oh, Androma, perché l'è bloccata? C'è sta mia cugina che mi ha chiesto perché l'è bloccata. Ha detto ieri sera è rimasta addormentata, che erano tipo mezzanotte e mezza quando gli ho scritto il messaggio. Ha detto stava addormendo e non ha voluto rispondere. Ecco, perché ha detto perché l'è bloccata? Io ci ho detto, Emanuele, no, niente di che, perché non mi risponde. E quella comunque ha detto... Ha detto se la sblocchi voleva parlare. Emanuele, no, non ho capito. Non capisco. Continuo a non capirle, ragazzi, io mi sa non riesco, mi sa. Motura, no, non ce la faccio io. Io non mi sono eliminato. Mi sono eliminato, va bene. Io sono stato eliminato, va bene. Il mondo è eliminato, va bene. Mi spiegavano pezzato. Eh, si vede la prima parte del giorno, si vede là. Già no, del giorno, davvero è nata. Non sto inversendo in modo che arriva, l'ho capito. Non sto inversendo in modo che arriva, l'ho capito. Corro, quindi, aika. E mo, parte davanti a tutto. E mo, dove cazzo va, è? Anthe quale parte ha sbagliato. E no, ne no, no, no. Che pavo, dice in Itaacolo? Sbagliata? No, 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 attenzione. Questa non è sbagliata da saperlo. Ero scontato, parola. C'è il mezzo, parola. Proprio il mezzo. Questa non la parola. E quun. Mezzo da personaggio. la riferi non me la fai in faccia? no ma che cazzo guarda non ti hai fatto se lo faccio la sanga? beh niente la riferi non me la fai in faccia? bello bello guarda bello ventiquattresimo aspettate che gli ultimi 5 si sono qualificati tutti insieme e questo è un misterioso ahahah 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 che mi consigli poco? che mi consiglio? che mi consiglio? che mi consiglio? che mi consiglio? ahahah 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 si lascia perdere il demon eh mo ho detto un'anzimo perchè comunque mo pure oggi vado ribloccandola tipo due giorni fa perchè comunque ce l'avevo discusso e se unico mio il cugino di questa ragazza mi ha detto mi ha richiesto se la sblocco e io ho detto si si mo vedo io se la sblocco no e ancora non l'ho sbloccato ovviamente perchè non mi sembra lo so che sembra una comportamenta di amorcioso però comunque se devo star dobbiamo star che si comporta più da amorcioso onestamente a me mi fanno diciamo incattivire le persone capito? lo sapete che non so cattivo di carattere io so tranquillo però uva cilegia arancia pesca uva cilegia uva cilegia pesca uva cilegia pesca arancia uva cilegia pesca arancia uva cilegia pesca arancia uva cilegia pesca uva cệuenta uva cilegia pesca uva cilegia pesca uva cilegia pesca uva cilessaca Guarda dove va più gente posto, muo di rutilante immagini. E questo è un volo dove. Ma non mi stai buttando fuori madoni. Ma quando ti stai in mezzo? Mi stai dicendo che... Mi stai in mezzo. 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 Stai in mezzo. Stai in mezzo. Mi stai in mezzo. A me si è buggato. Pensavo che si era buggato sulla schermata dei giocatori. No, no. Pago questo qua è veramente disio, sai perché? Hai visto dove sta sto disegno? Tu devi saltare al secondo, non al primo. Perché al primo si salta tutta la gente, no? Tu salti al primo, già salti il primo coso. Già salti il primo... come si chiama? Il primo di questi cosi cache, capito? No, non ho capito. Devi saltare sul secondo di quelle cose che ti fanno saltare, dove stanno le jump'a? No, no, non c'è sto, io faccio un po' vedere. Poi devo rilassare male per conto, aspetta un po' di 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 un po'. no apuri andare quando non lo so lo so come devo farlo ultimo proprio di un po quando inizi la vai sempre in fondo vai sempre in fondo a tutto lo d si quando lo so già non ce la faccio superare queste quale non ce la faccio io qua sempre vedo sempre io qua oggi ho perso tre volte qua non ci credo pago l'ultima possibilità pago oddio pago no no però mi devo muovere mi devo muovere no pago ce la fai ranchito ce la fai qua li fai uno alla volta non li fa di corsa non è rischiato tanto per ci ha detto non li fa di corsa oddio 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 no no non ci credo finale 9 che culo pago bella bella t'ho detto di passare i cosi lato ho detto i rulli di passi pago modi di vincere messe finale pago oddio ma non ce la faccio la montagna sicuro non ce la faccio ma scelvi ma non ti vedevo di tutto sta parte cosa vede fino a me la montagna è facilissima è una 23 e la montagna succede ma io non ce la faccio strano eh vabbè ma io ti consiglio di andare tutto quanto a sinistra capito da lì a un nano tutto quanto a sinistra dove sta la parte viola capito ma sto a destra io eh vabbè c'è la povero c'è la povero 3 volte, capito? 3 volte a sinistra quando lo saprete stai almeno davanti? io sto davanti o tu Ma che come te la senti di foto? E' un ventino è levato da cazzo La risatina me la fate in faccia sta dico Ma questo lì Non aveva fatto quel 3 yarder L'ha aiutato pure il martello Non sono mai arrivato ai sui giudini Non aveva dato quei sui giudini Merlina